Che strumento usi per approfondire? Perché non so voi, ma a me interessano quei lettori lì, non quelli che si accontentano di vedere scorrere il flusso. Il 57% di questi famigerati millennials risponde uso in modo di ricerca e vuol dire che noi abbiamo un bacino enorme di persone a cui attingere perché...